Ciao e io bentornati sul canale, era da tanto che sognavo di venire qui, un'isola remota plasmata dalle forze della natura e sede di una delle eruzioni vulcaniche più famose degli anni 70. Benvenuti a Vesmanhaier, un luogo dove i paesaggi mozzafiato e le leggende si intrecciano. Oggi esploreremo insieme cosa fare in due giorni su quest'isola magica, prepariamoci quindi per un'avventura indimenticabile. Allora voglio un museo di Heldemar, museo dell'isola, in pratica ci spiegherà la storia delle eruzioni vulcaniche, soprattutto della più recente del 1973, che ha costretto a tutta la popolazione di quest'isola di Vesmanhaier ad evacuare perché era davvero davvero pericoloso. Allora voglio un museo, era molto interessante, l'abbiamo visitato all'inizio del nostro viaggio proprio per comprendere al meglio la storia dell'isola e dell'evoluzione vulcanica che ha cambiato per sempre la vita degli abitanti. Il museo era interattivo e coinvolgente e in pratica sorge sulle rovine di case sommerse dalla lava, guadagnandosi poi il soprannome di Pompei del nord Europa. Ah, infatti questo evento drammatica ha costretto quasi tutta la popolazione a evacuare. assurdo, rendendo però la visita a questo museo di El Demar un'esperienza unica. Ok, a tratti era anche un po' creepy perché insomma comunque parla di disastro e di morte e faceva vedere proprio le macerie, però io l'ho trovato curioso e interessante. E dopo una dovuta pausa caffè e merenda ci siamo diretti verso il santuario dei Belunga. Questo santuario è una struttura pioneristica dedicata alla riabilitazione delle balele bianche in un ambiente naturale. È situato in una baia riparata e offre condizioni simile al loro abito attartico, promuovendo il benessere degli animali e la ricerca scientifica. Oltre a questi due esemplari di beluga che sono Little White e Little Grey, c'erano anche altre specie di flora e di fauna. Ed eccoci qua sul monte a Buffin, un po' di 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 un po'. De Mar, che i Puffin qui non stanno da molto tempo, sono venuti intorno al 2004 ed hanno colonizzato in massa quest'isola. Infatti quest'isola poi è diventata la colonia più grande d'Europa dei Puffin. Madonna, eccoli qua, questi qua sono tutti quanti i Puffin sopra questa scogliera. Ma quanti ne sono? Sono bellissimi, pure quando volano sono troppo troppo... Cioè sono carini, sono coccolosi. Vabbè Carolina è un po' delusa da questa colonia dei Puffin. Anche perché non l'abbiamo vista un poco poco meglio a Borgafiordù, c'è la possibilità di vedere i Puffin più da vicino. Se vuoi, puoi pure accrezzarli, veramente. Ok, siamo appena entrati nell'appartamento che abbiamo preso per questi giorni qui sull'isola di Westmanhaer. Ora facciamo un breve tour dell'appartamento. Allora, questa è l'entrata con la living room molto bella, la tv e il divano. E poi qua c'è la cucina, quindi con frigorifero, freezer, addirittura il forno dove potremmo fare la pizza magari, proprio per gli italiani. Qui con un bel lavandino, comunque questa cucina è abbastanza nuova, c'è un po' tutto quanto. Sicuro, ma c'è la pentola per la pasta, lo scolapasta, una cosa più importante. Eccola qua, sì. Poi vabbè qua c'è Carolina. E qui abbiamo la nostra stanza da letto. Che bella. Facciamo le luci. Carina. Allora, non c'è una bella vista. Perché incontro luce, ok, si affaccia sui palazzi della città, però... Comunque è molto bella e spaziosa. Allora, l'odore che si sente è proprio di pulito, bello. E poi questo colore è molto rilassante. E' abbastanza minimal come casa. E qua c'è il bagno. Comunque l'arredamento è abbastanza nuovo, recente. Però non c'è la scodiglia. Qui ci sono i salerni. Abbiamo appena ricevuto una mail da Rib Safari che dovremmo fare domani pomeriggio riguardante il fatto che per le condizioni meteo avverse probabilmente la nostra escursione non sarà disponibile, sarà cancellata. E quindi siamo un po' dispiaciuti e nervosi per questo. Perché davvero la roccia elefante è un posto che desideriamo da tanto di vedere. Speriamo bene per domani. Ok, quindi la mattina dopo ci siamo diretti verso Emma Clettur, che sarebbe il trekking più iconico dell'isola, dal quale puoi vedere Vesma Nair dall'alto, che è uno spettacolo. Il video sarà molto raccontato perché c'era un vento assurdo in quei giorni e l'audio, come potete capire, non è proprio ottimale. Mamma io è altissimo, comunque il vento è proprio forte, si riesce a camminare tuttanto quando si flaca un attimo, poi quando inizia le raffiche ti spostano, infatti vedo, vuoi vedere se riesco ad arrivare fino là sopra, il calorino è rimasto giù, mamma mia che è salita. Ok, sono arrivato fino a qui, che è la prima sossa, vi faccio vedere una cosa, sono salita abbastanza in alto, qua è un muro pieno di dediche di persone che sono venute qui, bisogna continuare a salire per di qua e adesso dovrei scavare la roccia di qui per salire, eccola la cima. Guardate che vista che ci sta, questa è la città. questa è la cascala più brutta per salire perché è davvero molto ripida e lì c'è Carolina che mi sta aspettando. Mamma io sta arrivando la sabbia, vedo il vento, questa è la scala più brutta da fare, ma dopo questa poi la panoramica è bella, adesso sto scendendo però non mi devo guardare indietro perché sennò le vertigini si fanno sentire assai. Ok, voglio... Scalata fatta, la parte più brutta erano le scale iniziali e le scale finali, comunque adesso andiamo al prossimo luogo, mamma mia che vento e che freddo che ci stava. E poi una cosa che ho trovato molto bella è questo, lo sprangan, che in pratica è un tradizionale gioco islandese delle isole di Westmaneier, i partecipanti si dondolano su una corda fissata a una scogliera mostrando abilità e forza, ovviamente è un gioco nato tra i pescatori per migliorare la loro destrezza e oggi è una popolare attività ricreativa e parte del patrimonio culturale islandese. Ok, voglio... Stiamo entrando in questa chiesa di legno costruita, pensate, nel 1170 dal re di Norvegia. Andiamo insieme. Mi sto innamorando di Westmaneier, un'isola ricca di storia che ha saputo conservare le sue antiche tradizioni, come ad esempio questa chiesa che rappresenta un perfetto esempio dell'architettura tradizionale islandese, oppure del sito di Eriolf Saladarul, i primi insediamenti vichigni sull'isola, e dove sono stati scoperti i resti di questa casa risalente al IX secolo. Avrei voluto mostrarvi di più dell'isola, ma il meteo, inclemente, non ce l'ho permesso. Tuttavia abbiamo approfittato della situazione per gustare un dilenzioso Fish and Chips, è il migliore che abbia mai mangiato. Com'è? Buono, molto buono. Non appena il tempo ce l'ha consentito siamo partiti per un emozionante tour Rib Safari, che è stato davvero affascinante. Le guide erano eccezionali nel raccontarci storie e curiosità sull'isola. Purtroppo, a causa del maltempo, non siamo riusciti ad avvicinarci alla famosa roccia elefante, che desideravo tanto vedere. Roccia, che tra l'altro è stata ripresa da un episodio del manga One Piece. Che Zou, sarebbe un'isola situata sul dursu di un enorme elefante dove sorge Mokomo, il ducato di Visuni. Ma non fa niente nel tour, non ci hanno fatto vedere la roccia elefante. Noi ce l'andiamo a vedere direttamente dalla terra. Abbiamo trovato un passaggio attraverso un campo da golf. Ovviamente perché questi islandesi sono proprio appassionati di golf. Soprattutto quando c'è molto vento. Abbiamo trovato questo passaggio, siamo di qua e arriviamo direttamente alla roccia. Guayu, cioè non ci credo, finalmente siamo riusciti, siamo arrivati sotto la roccia dell'elefante. a piedi, che poi anche quella roccia che ha ispirato quell'episodio di One Piece con l'isola elefante. Guayu, guardate qua. Bellissima. Mamma mia. Cioè ma che bella è, sono troppo contento. Cioè è bellissimo, ha troppo tempo che desideravo di stare qua. Assurda. Guarda, mi è felice. L'istoria è compiuta. Ok, Guayu, grazie di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto iscriviti al canale, metti like. Ce l'abbiamo fatta nonostante le difficoltà. Ci vediamo alla prossima avventura. Grazie. Grazie. Grazie.